Quattro vedrai cosa succede Ora vi sono aspettati a buchi il pesce Lasciano mezzo ragno Aio Che vicino ha? Eh Gli deve stare così Tira tira Mirko Vai Mirko Anche Gabriele Tutte e due Mirko noi abbiamo più forza Tira tira te No no è un'altra Natascia fai Mirko Ti fa per i prossimi Ecco